Ciao, oggi parliamo di queste, lenti vintage. Ciao, oggi parliamo delle lenti vintage. Perché utilizzarle? Spesso le abbiamo già in casa senza andarle a cercare perché ce le hanno, non so, i nostri genitori o dei parenti o degli amici che non le usano più. A volte ce le abbiamo nascosti dentro qualche cassetto e potremmo dare una seconda vita, una seconda occasione a queste lenti. Per farsi un piccolo corredo basteranno all'incirca tre lenti, un 24, un 28, un 35 e un 50. Oppure se vogliamo andare verso il teleobiettivo anche un 85. Comunque prendendo tre lenti possiamo coprire, certo a seconda dei lavori che dobbiamo fare, anche del nostro stile di ripresa, potremmo coprire un po' tutto spendendo delle cifre che sono irrisorie rispetto a lenti native. Cioè prendere tre obiettivi sul mercato dell'usato, dove ci sono veramente molte occasioni, ci fanno spendere molto meno che acquistare una sola lente nativa. Inoltre quando si girano video, spesso si girano video con fuoco in manuale. Certo dipende anche dalle situazioni e dal tipo di ripresa che dobbiamo fare, ma soprattutto poi a un certo livello si usa il fuoco manuale e con delle lenti di questo tipo intanto possiamo far pratica e poi possiamo aiutarci comunque con il focus peaking per esempio che ci darà indicazione sul punto di messa a fuoco raggiunta e possiamo insomma operare in questo senso facendoci intanto esperienza con fuoco manuale e poi anche perché il fuoco manuale permette di fare delle cose che l'autofocus non permette e viceversa naturalmente. Però insomma è un'ottima palestra anche di esercizio. La ghiera di messa a fuoco ha un inizio e un fine corsa, non come molte delle lenti moderne che praticamente hanno una ghiera per il fuoco che va, gira all'infinito. E questo può essere d'ausilio anche quando usiamo i follow focus perché risulta più facile definire il punto d'inizio e fine corsa. Nei video si cerca spesso una pasta, una colorazione, un look piuttosto che un'estrema definizione dei dettagli. Anzi si usano dei filtri per abbassarla durante le fasi di ripresa come il ProMist oppure attraverso degli interventi in fase di editing. Alcuni difetti di queste lenti come il flare, aberrazioni cromatiche, caduta di definizione ai bordi, vignettatura, abbattimento anche magari del contrasto, sono cose che magari per certe tipologie di video cerchiamo proprio e quindi ce le ritroviamo già lì pronte. Una distinzione va fatta secondo me nell'uso di queste lenti per foto e per video. Se parliamo di foto nel mondo delle lenti vintage ci sono delle lenti di solito delle lenti a focale fissa molto molto buone, pensiamo ad alcuni modelli e alcuni obiettivi laica per esempio e altre molto meno. Quando parliamo di foto dobbiamo prestare attenzione al loro potere risolvente. Nelle riprese video noi acquisiamo, giriamo, a 4K, in realtà Ultra HD con una definizione di 3480x2160 che corrisponde all'incirca a 8 megapixel oppure riprendiamo in HD 1920x1080 quindi per approssimativamente poco più di 2 megapixel e con queste definizioni non siamo ossessionati dal potere risolvente. Certo andando avanti siamo già con delle macchine che registrano a 6K o 8K, man mano che la definizione di ripresa aumenterà naturalmente i discorsi cambieranno un po' e quindi andranno un attimo rivalutate il potere risolvente di certe lenti rapportate alla capacità ai sensori di riprendere con certe definizioni. Nella fotografia, a meno che non si ricerchi essenzialmente un particolare look per gusti personali o sperimentazioni, è importante il potere risolvente ovvero la capacità di risolvere un tot di punti per millimetro. In questo caso le lenti vintage non possono spesso essere paragonate per i risultati a lenti native, moderne e si nota nelle stampe, dipende naturalmente dalla grandezza delle stampe, dalla distanza alle quali si guardano, però in stampe diciamo importanti o sopra una certa dimensione la mancanza di definizione nei particolari si comincia ad osservare. Anche la differenza tra un sensore digitale e la pellicola è rilevante perché gli schemi ottici che erano stati progettati per poter trasmettere i raggi luminosi in un certo modo sulla pellicola sono stati naturalmente sono evoluti questi schemi ottici perché hanno come riferimento il sensore, pellicola e sensore hanno capacità diverse di rispondere anche per esempio all'inclinazione dei raggi luminosi che passano attraverso le lenti dell'obiettivo. Inoltre più il sensore digitale della macchina avrà un numero di megapixel elevati più il potere risolvente cioè la percezione di nitidezza trasmessa si abbasserà perché il sensore cercherà di restituire dettagli che l'obiettivo non è in grado di cogliere. Una volta gli obiettivi erano molto importanti perché la copiata obiettivo e pellicola faceva il grosso. Il corpo macchina si era importante però se escludiamo il discorso di esposizione di calcolo dell'esposizione il corpo macchina aveva una sua importanza perché magari era resistente poteva sopportare agenti atmosferici eccetera aveva delle caratteristiche magari più o meno particolari però il grosso lo faceva l'obiettivo la lente e la pellicola. Quindi diciamo era demandato molto si chiedeva molto all'obiettivo. Oggi non è che non sia così naturalmente poi su fasce di obiettivi di alta gamma con prezzi importanti la ricerca e la scelta di materiali i rivestimenti eccetera naturalmente sono molto evoluti e curati eccetera però oggi diciamo che un aiuto agli obiettivi alla resa degli obiettivi viene anche dalla possibilità di sfruttare i processori quindi il software che è già dentro la macchina. Il processore della macchina in tutte le moderne mirrorless o reflex digitali è in grado di riconoscere l'obiettivo innestato e effettuare le correzioni del caso correzioni per esempio di distorsione di vignettatura correzione dei difetti possono essere effettuati anche in post produzione pensiamo per esempio a photoshop quando carichiamo il nostro file raw in camera raw abbiamo a disposizione degli strumenti per la correzione delle aberrazioni della distorsione della vignettatura in automatico photoshop ha una banca dati di vari obiettivi delle varie marche e in automatico se vogliamo possiamo effettuare la correzione di questa questa viene fatta anche in macchina se noi escludiamo per esempio la correzione della vignettatura andiamo a vedere i risultati tra una foto scattata senza la correzione e una con noteremo noteremo la differenza bene ma come facciamo a montare un vecchio obiettivo su una macchina moderna possiamo montare questi vecchi obiettivi sulle macchine moderne siano esse con sensore 4 terzi micro 4 terzi apsc full frame tramite degli anelli adattatori anelli adattatori dal costo contenuto perché non ci sono vetri ottici non ci sono contatti elettrici particolari elettronici che possano appunto trasmettere gli automatismi infatti al momento parlo di questo tipo di adattatori questi adattatori semplicemente si frappongono tra il corpo della macchina e l'obiettivo e permettono di innestare appunto questi obiettivi di diverse marche cioè se noi abbiamo una sony possiamo montare obiettivi di varie case canon nikon tante dobbiamo scegliere l'adattatore giusto dovremmo come dicevo rinunciare naturalmente a tutti gli automatismi ovvero la messa a fuoco il cambio dei diaframmi queste avverranno naturalmente manualmente cambio fuoco e con la ghiera dei diaframmi potremmo cambiare i vari diaframmi naturalmente in base al sensore avremo la lunghezza focale equivalente cioè se montiamo un obiettivo full frame su un corpo macchina full frame avremo naturalmente la stessa lunghezza focale se lo montiamo invece su un micro 4 terzi o un apsc dovremmo calcolare un fattore di moltiplicazione di 2 o 1,5 naturalmente la luminosità rimane invariata quando lo montiamo su un per esempio su un apsc quindi con sensore ridotto il fatto di andare a usare la parte centrale dell'obiettivo permette di non far sfigurare questo obiettivo nei confronti di obiettivi nativi moderni perché andiamo a sfruttare dell'obiettivo soltanto la parte migliore e quindi caduta di luce ai bordi caduta di definizione ai bordi o alcune aberrazioni che si trovano sui bordi praticamente le perderemo e avremo quindi il meglio di quell'obiettivo questi adattatori oltre a permettere di poter innestare obiettivi con baionette diverse sull'attacco della nostra macchina permette anche di far rispettare il tiraggio il tiraggio è la distanza tra il piano focale la pellicola o il sensore e la parte posteriore del bocchettone dell'innesto dell'obiettivo di tipi di attacchi di obiettivi ce ne sono tanti contacts yashica abbiamo canon fd minolta mcmd m42 m39 pentax k abbiamo poi olympus o m rollei nikon molti di questi poi nel corso degli anni all'interno della stessa casa produttrice hanno modificato anche gli innesti come per esempio la nikon non ai 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 s dal 59 al 77 e l'ultimo era nel 1981 quando è stato rilasciato mi pare la is per cui quando andiamo a cercare l'anello adattatore dobbiamo prestare attenzione al tipo di obiettivo che vogliamo andare a innestare al tipo di obiettivo anche della stessa casa produttrice quindi nikon verifichiamo che sia quello che cerchiamo e la baionetta l'attacco della nostra camera tutte le macchine possono montarle solitamente sì io ho esperienza con la mia sony e si può basta verificare nel menu che ci sia la possibilità di scattare senza obiettivo innestato andate nel menu e verificate la presenza di questo le lenti vintage naturalmente non avevano una stabilizzazione sull'obiettivo come capita a molte delle lenti moderne per cui non potremmo avere questa se però la macchina ha un sistema di stabilizzazione integrata sul sensore in questo caso potremmo sfruttare quella è importante però nel menu andare ad indicare la lunghezza focale dell'obiettivo quindi se innestiamo un 24 andare a specificare il 24 28 50 85 135 quello che sia cosicché la macchina riconosce la lunghezza focale dell'obiettivo innestato e può operare una stabilizzazione sul sensore in rapporto a quella lunghezza focale quali lenti montare io consiglio lenti prime ovvero a focale fissa assolutamente queste qui non gli zoom per una serie di motivi innanzitutto le lenti prime hanno una qualità che solitamente è ben superiore a quella degli zoom hanno aperture massime del diaframma che va oscillano variano da 1.4 siamo a un 50 mm o 1.4 1.8 2.8 insomma hanno una bella apertura di diaframma e che non varia che è fissa mentre su zoom a volte abbiamo aperture che variano da 4 a 5 6 quindi assolutamente meglio considerare nella nostra scelta le lenti prime sono molto leggere e sono molto compatte inoltre possiamo qualora appunto la macchina ce lo permetta andare ad utilizzare la stabilizzazione del sensore definendo appunto nel menu qual è la lunghezza focale dell'obiettivo che innestiamo se innestiamo uno zoom e variamo la lunghezza focale perdiamo la possibilità di avere un effettivo ausilio dallo stabilizzatore interno alla macchina inoltre è fatto che non modifichiamo la lunghezza proprio meccanica dell'obiettivo oddio non su tutti gli obiettivi avviene questo cioè il fatto per esempio su uno zoom di variare la lunghezza focale variando la lunghezza si allunga o si accorcia l'obiettivo fa spostare il baricentro e qualora utilizzassimo l'obiettivo montato su un gimbal su uno stabilizzatore andremo a perdere la calibrazione fatta del gimbal andrebbe rifatta ogni volta che noi andiamo a spostare il baricentro dell'obiettivo nell'utilizzo pratico almeno con la mia a sony a7ii riesco a fuocheggiare molto più facilmente per le foto piuttosto che per i video per un fattore di moltiplicazione maggiore che ottengo dal menu della macchina allora consiglio intanto di assegnare uno dei tasti di scelta rapida sul corpo della macchina al fattore di moltiplicazione zoom così abbiamo subito la possibilità di ingrandire andare a effettuare un fuoco accurato a portata di dito utilizziamo poi il focus peaking andiamo nel menu e possiamo scegliere tra mi pare tre diversi livelli di visibilità del focus peaking focus peaking praticamente è una sorta di bordino colorato che all'interno dell'inquadratura mi va a segnalare quali sono le aree messe a fuoco non sempre è precisissimo ma insomma è di buono aiuto e possiamo appunto definire l'intensità di questo focus peaking la visibilità di questo focus peaking e anche il colore su questi obiettivi la ghiera dei diaframmi è quella classica appunto dei vecchi obiettivi una ghiera con stop meccanici di variazione tra un valore e un altro di diaframmi quindi non è quella di tipo fluida che troviamo sulle lenti cine oppure sulle lenti fotografiche come il 24 il 35 della serie gmg master delle sony in cui la ghiera dei diaframmi può essere anche dei click quindi varia in modo fluido senza soluzioni di continuità tra un valore e un altro una nota sulle lenti vintage cosiddette radioattive ovvero negli anni 50 fino agli anni 80 quando sono state messe al bando si usava per limitare le riflessioni luminose il torio che è una sostanza radioattiva che veniva utilizzata naturalmente le quantità erano veramente molto poche le radiazioni bassissime però mentre la pelle non passavano sulla pelle sull'occhio che più sensibile si diceva potevano a lungo andare dare dei problemi sono state messe al bando se le trovate si riconoscono perché hanno una colorazione giallina col passare del tempo queste lenti assumevano questa colorazione giallina sembra che le radiazioni siano molto basse comunque insomma è una cosa che volendo uno può prendere anche in considerazione consigli per gli acquisti sono quelli di valutare bene queste lenti ora queste lenti possono se uno non ce l'ha essere acquistate sui mercatini dell'usato quindi si possono guardare materialmente prendere in mano e osservarle oppure c'è un mercato abbastanza fiorente anche su ebay insomma su vari siti di compravendita di materiale usato insomma bisogna cercare di valutare un po' la bontà di questi obiettivi perché in giro c'è un po' di tutto dall'occasione alla schifezza più totale quindi cercare un attimo di vedere verificare che sulle lenti magari se è vendita online non può chiedere anche di avere qualche foto in più insomma chiedere sempre verificare che non ci siano graffi sulle lenti da un lato e dall'altro che non ci siano muffe si formano magari tra le lenti quindi osservarla contro luce da un lato all'altro con il diaframma tutto aperto che il diaframma le lamelle del diaframma funzionino correttamente non ci siano perdite di olio che le ghiere siano insomma abbastanza reattive al movimento al comando che gli diamo che il diaframma effettivamente faccia aprire o chiudere le lamelle insomma prestare un po' di attenzione i costi naturalmente variano in base allo stato delle lenti al nome della lente quindi possiamo oscillare da un 30 euro e possiamo superare anche i 1000 euro ma lì si parla più di collezionismo che secondo me è più fine a se stesso non è per un utilizzo insomma per quel che vogliamo magari farne noi ovvero utilizzare queste lenti vintage spendendo possibilmente poco e ottenendo dei risultati che a volte sono anche sono gradevoli per quanto riguarda invece gli adattatori io ho preso quelli su amazon della knf concept e mi sono trovato devo dire molto bene ne ho presi due uno per l'attacco canon fd perché appunto possedevo degli obiettivi canon fd qualcosa poi ho comprato anche su ebay e poi anche un altro della nikon perché avevo appunto delle vecchie lenti nikon questi che ho preso io sono anelli dumb ovvero senza contatti che trasmettano le automazioni quali autofocus stabilizzazione apertura chiusura diaframma ci sono poi quelli dumb con i contatti che trasmettono queste informazioni e infine poi ci sono gli speed booster anche se speed booster in realtà è il nome di un modello della metabons però poi tutti quegli anelli tutti quegli anelli di quel tipo sono stati poi chiamati alla fine speed booster come fosse il modello insomma ma questi qui contengono anche oltre appunto a trasmettere gli automatismi convertono la focale per adattarla a sensori a sensori ridotti come avviene per esempio per la black magic pocket cinema camera 4k o 6k bene spero che questo viaggio nel mondo degli anelli adattatori vintage alla riscoperta di questi obiettivi che giustamente è un peccato farli stare chiusi in un cassetto perché possono regalarci secondo me ancora buone soddisfazioni spero insomma che vi sia stato utile e vi sia piaciuto questo viaggio alla prossima e ciao Grazie 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 Grazie